Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, io sono Daniele Belcastro e oggi andremo ad analizzare il video di lancio della mia challenge perché infatti per preparare la challenge e soprattutto per scrivere il video di lancio della challenge ho utilizzato l'equazione che è presente in un libro che ho letto nell'ultimo periodo e il libro in questione è 100 Million Dollar Offers di Alex Sormosi che potete trovare anche su Kindle o semplicemente su Amazon sul vostro iPad per soli 99 centesimi è un libro pieno di valore e andrò ad utilizzare l'equazione spiegata in questo libro per spiegarvi come ho creato la challenge allora ragazzi io mi sono messo l'airpods perché infatti adesso andremo a vedere insieme il video e io man mano lo fermerò e vi racconterò come è stata creata quella specifica parte del video ma direi che possiamo iniziare, via! via! ovviamente la prima parte deve essere un po' emotiva perché vi deve attaccare al video e vi deve far venire voglia di vederlo e quindi siamo andati a riprendere un elemento del mio passato e qui un titolo che deve essere accattivante vi sfido a cambiare la vostra vita anno scorso ho dato prova di mantenere la mia parola vi ho promesso che sarei salito sul palco e lo fa adesso tutto il video sarà incentrato su un unico obiettivo andare ad aumentare il valore percepito della mia offerta che poi in questo caso non è un'offerta vera e propria perché ovviamente non sto vendendo niente ma anzi lo sto facendo con il cuore e voglio farvi un regalo però bisognerà partire con un certo valore e poi aumentarlo piano piano per invogliare voi ad accettare la sfida e quindi iniziamo col dire vedete che l'ho fatto vi ho promesso l'anno scorso che avrei fatto una cosa e l'ho fatta ma quest'anno faremo di più e quindi mi inizio ad invogliare la prima sfida sfiderò voi a fare lo stesso e qui partiamo con la vera affermazione avete mai pensato di poter cambiare il vostro fisico senza spendere un euro che ovviamente è un'affermazione che ti vogliono di vedere il video perché ovviamente tutte le persone vogliono avere un bel fisico e soprattutto tutti sappiamo quanto è costoso cambiare il proprio fisico e quindi sentirsi dire che lo potete fare gratuitamente ovviamente è un'affermazione che fa venire voglia di vedere il video ma continuiamo 5 anni fa io stesso ho iniziato un percorso che mi ha portato dal pesare 100% adesso possiamo far vedere i primi due fattori delle equazioni che sono il dream outcome e il perceived likelihood of achievement che sono entrambi al numeratore quindi essendo un'equazione dobbiamo aumentare questi fattori dream outcome quanto possiamo arrivare in alto seguendo la mia offerta nel senso io vi posso promettere di perdere 10 kg, 20 kg, 30 kg e ovviamente la persona che vi promette di perdere 30 kg avrà un dream outcome maggiore perché appunto 30 kg è maggiore di 10 kg e poi il perceived likelihood of achievement che è quanta fiducia io ho in quella persona che mi possa portare al dream outcome e quindi seguitevi vi ho detto avete mai pensato di poter cambiare il vostro fisico senza spendere un euro quindi il dream outcome è quello di cambiare il proprio fisico senza spendere un euro e poi il perceived likelihood of achievement ci sono passato quando avevo 16 anni ho iniziato un percorso e quindi voi siete consapevoli insieme a me che vi posso portare a cambiare il vostro fisico perché l'ho fatto prima di tutto sulla mia persona ma andiamo oltre ci rifermiamo e andiamo al denominatore time delay quindi dobbiamo cercare di diminuire il più possibile il tempo che sarà richiesto per arrivare al dream outcome e io qui ho agito in una maniera particolare io qui ho detto non posso promettermi che in due mesi potete perdere 40 kg però posso agire in un altro modo infatti sono andato oltre e ho detto però posso dire che e adesso vi faccio sentire che finora decidere di scambiare 6 mesi di dieta in cambio di una vita di salute e di energie è stata la decisione migliore decidere di scambiare 6 mesi di dieta in cambio di una vita di salute e di energia e quindi capite come il tempo è stato ridotto perché non è che in due mesi potete perdere 40 kg però 6 mesi rispetto ad una vita di salute ed energia ecco che il tempo si è ridotto e poi passiamo all'ultimo fattore non posso neanche dire che sarà facile che il risultato arriverà senza sforzi e che non ci saranno difficoltà ma pensate a dover pagare un allenatore a dover capire come eseguire gli esercizi e dover capire quali alimenti mangiare ecco io non posso sostituire dei professionisti ma posso aiutare l'ultimo fattore è che dobbiamo diminuire effort e sacrifice quindi gli sforzi e soprattutto i sacrifici che la persona dovrà fare per arrivare al dream outcome e se riusciremo a diminuire anche questo la nostra offerta avrà molto più valore e io anche qui ho dovuto fare in un modo un po' particolare perché infatti non è facile non posso promettermi che sarà facile quello di cambiare il vostro fisico perché sarà una sfida veramente difficile però vi ho detto pensate a dover pagare un allenatore a capire cosa mangiare e soprattutto a capire step by step quello che dovete fare ecco lì è molto sforzo invece pensate ad avere me in questo caso che mi darò la mia stessa scala di allenamento vi parlerò di quello che mangio e di come risparmiare per fare la dieta e soprattutto ci saranno tutti i video tutorial in cui vi faccio vedere insieme a Tommaso esecuzione di ogni esercizio ecco capite come lo sforzo è comunque alto ma è ridotto rispetto a quello che avreste dovuto fare senza di me e quindi in questo caso abbiamo aumentato il numeratore diminuito il denominatore e il nostro valore è aumentato molto di più e ovviamente le persone sono molto più invogliate ad accettare la sfida però c'è un ultimo punto e da oggi posso annunciare l'inizio di una challenge che sarà solo il punto di partenza un primo passaggio per far scoccare quella scintilla che serve per intraprendere questa nuova sfida una challenge divisa in due categorie verità di peso e ricomposizione con il cuore una sfida difficile sì ma in cui non sarete soli qui facciamo la nostra offerta la challenge perché infatti l'obiettivo è quello di invogliare voi a fare la sfida e quindi è il momento di fare la nostra offerta dopo che abbiamo aumentato il valore facciamo l'offerta ma andiamo oltre perché da oggi annuncio l'inizio della mia preparazione per una nuova gara di bodybuilding una sfida che mi affaticherà sotto il piano fisico ma anche quello psicologico perché nel frattempo concluderò il mio percorso alla Bucconi e quest'anno a inizio giugno gareggerò a Rimini Wellness per diventare campione italiano e solo due settimane dopo sarò laureato alla Bucconi sarò accanto a voi e vi regalerò la mia stessa scheda di allenamento in collaborazione tra me e il mio personal trainer Thomas Urbani con aggiornamenti mensili e spiegazioni costanti degli esercizi in più sul mio canale youtube ci sarà la serie della gara in cui racconterò i trucchi la fatica e condividerò tutto quello che conosco riguardo questo bellissimo sport e se avete dubbi all'iscrizione riceverete un link per accedere ad un gruppo telegram privato in cui potrete farmi domande e spronarvi a vicenda per cambiare la vostra vita qui continuiamo ad aumentare il valore perché infatti mi sono detto se vogliamo fare un bel progetto diamo tutto il valore che possiamo dare quindi la sfida sarà difficile sì ma io sarò accanto a voi perché infatti intanto finirò il mio percorso alla Bucconi perché a giugno luglio sarà la proclamazione mi laurerò e farò anche la gara quindi sarà faticoso per voi ma sarà faticoso anche per me che sono vicino a voi e poi continuiamo è difficile ma su youtube troverete tutto quello che vi serve è difficile non avete motivazione state fallendo iscrivetevi al gruppo telegram il gruppo in cui ci sarà anch'io e vi aiuteremo tutti per raggiungere il vostro obiettivo e qui continuiamo ad aumentare il valore e adesso andiamo con il punto forte non esiste una sfida senza un vincitore non esiste una sfida senza un vincitore perché indipendentemente dal treno il vero risultato sarà quello di aver cambiato il proprio fisico siete contenti? avete scoperto che potete cambiare il vostro fisico senza spendere un euro? avete scoperto che io farò tutto il possibile per ridurre il vostro sforzo? ma c'è di più c'è un vincitore anzi due vincitori uno per ogni categoria che riceveranno un anno di consulenza gratuita dato un maso e la possibilità se lo vorranno di venire a Rimini perché alla fine è un traguardo per me quello di andare a Rimini ma è un traguardo anche per voi che avrete accettato la sfida e che avrete cambiato il vostro fisico e la vostra vita e quindi due vincitori saranno invitati a venire alla mia gara per celebrare insieme e poi concludiamo il video perché alla fine siamo stati molto dolci in questo video abbiamo fatto tanti regali abbiamo aumentato tanto il valore però c'è bisogno di essere anche puntigliosi è il momento in cui dobbiamo toccare l'orgoglio delle persone e ovviamente ricordatevi che esistono persone che amano le sfide e persone a cui le sfide fanno paura ma indipendentemente da tutto esistono solo persone che le accettano e persone che ne scappano via tutto quello che vi serve ricordatevi che ci sono persone che accettano le sfide e persone a cui le sfide fanno paura ma indipendentemente da tutto esistono solo persone che le accettano e persone che ne scappano via e qui andiamo a toccare l'orgoglio delle persone perché infatti va bene va bene regalare creare valore però alla fine se la persona non si sente toccata nel suo orgoglio alla fine non accetterà mai una sfida fatta da uno sconosciuto su internet e quindi andiamo a toccare quell'orgoglio e alziamo ancora di più il valore e in questo caso concludiamo il video con una frase molto importante lasciate un like e condividete il video cambiate la vostra vita e quella delle persone a cui tenete non c'è regalo migliore che potete fare e ricordatevi che se l'ho fatto io potete farlo anche voi e ricordatevi che se l'ho fatto io potete farlo anche voi e in questo momento concludiamo il video quindi che abbiamo fatto? abbiamo alzato il valore il più possibile nel momento in cui c'è stato un plateau perché abbiamo fatto la nostra offerta abbiamo ulteriormente alzato il valore dicendo che non è solo gratuito ma c'è anche un premio e credo che questo sia il modo migliore in cui potevo farlo perché infatti quest'anno cade a pennello ho tanti obiettivi, voglio laurearmi, voglio rifare la gara perché voglio fare questa sfida insieme a voi e che dire, se questo vi è piaciuto mettete un like e soprattutto iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo, ciao! iscriviti al canale